ecco qua due avventori che abbiamo incontrato sulla ciclabile di campo cavallo vi vogliamo domandare noi che siamo artristi tutti e due che cosa pensate che cosa pensate di portare la musica qua in mezzo questa splendida natura se ci dite il nome il vostro commento sono beatrice io penso che un'idea fantastica fantastica anche perché sono fantastici questi musicisti mi chiamo giovanni sono d'accordo anch'io con baby condivido pienamente l'assegno passate a riscuoterlo dopo domani perché è scoperto ancora grazie tra giorno e notte so ventiquattro ore e tutti e ventiquattro me fai penare lassame reposare almeno un'ora le altre ventitre come te pare la notte fatta pe ma pe dormire non ha fatto un solo dio per reposare reposa l'aria e reposa i venti reposano ogni sorte d'animale reposano leone lo serpente reposa la valena in mezzo al mare solo per te io non reposo niente faccio sempre la notte di natale la notte di natale è notte scura faccio lo guardiano alle due porte la notte di natale è scura notte faccio lo guardiano alle due porte la notte di natale è scura scine faccio lo guardiano al tuo cortile grazie grazie bravi grazie grazie